Per una migliore efficacia del trattamento e della riabilitazione del bambino sordo è fondamentale una diagnosi precoce. In che modo è possibile effettuarla? Oggi si può fare lo screening neonatale già dal primo o secondo giorno di vita in tutte le strutture nascita. Il bambino viene semplicemente accovacciato tra le braccia della mamma, lo può fare anche nella culla, è un esame assolutamente non invasivo nel quale si mette un piccolo elettrodo, un piccolo microfonino all'interno del condotto uditivo del bambino e si registrano le prime stimolazioni, le prime attività delle cellule dell'orecchio. E già da questo primo screening fatto molto 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 importante si può cominciare a capire se un bambino può essere sordo e in questo caso se fallisce appunto il test il percorso diagnostico è piuttosto ben delineato e anche molto accompagnante della famiglia. Il bambino e la sua famiglia hanno una serie di date, di incontri in un servizio di audiologia specializzato nel trattamento delle sordità e fanno una serie di esami all'interno dei quali si verifica sia se c'è una componente genetica sia se c'è una componente organica che ha portato alla sordità. Questo percorso ha un suo compimento all'interno tra i tre e i sei mesi, il sesto mese di vita del bambino. Periodo molto importante per noi perché è un periodo in cui il bambino ha una deprivazione uditiva molto molto bassa, soltanto pochi mesi ed è più facile per noi riabilitatori avviare un percorso sia di terapia sia di utilizzo dell'ausilio della protesi per favorire quanto più possibile il recupero della percezione uditiva. Quando c'è una diagnosi precoce la presa in carico può essere altrettanto tempestiva. In che modo avviene sia per il piccolo paziente che per la sua famiglia? Il bambino quando arriva presso il centro di riabilitazione per iniziare questo percorso non si interfaccerà soltanto con il logopedista come potremmo immaginare. In realtà la presa in carico è globale e prevede il ricorso a diverse figure professionali a partire dal neuropsichiatra infantile che diventa poi il medico responsabile del progetto riabilitativo ma ci sono anche psicologi logopedisti come ho detto e terapisti della neuropsicomotricità dell'età evolutiva. In questo senso il paziente viene accompagnato nell'identificazione di tutti i suoi punti di forza e le eventuali carenze rispetto al suo profilo di sviluppo. Quello che noi facciamo è fare una valutazione approfondita cercando di individuare se oltre la sordità ci sono altre difficoltà per le quali è importante agire tempestivamente. In questo senso quindi dopo un'accurata valutazione dello sviluppo il bambino inizia il suo percorso riabilitativo ma non è da solo. In questo senso lo psicologo presente nell'equip multidisciplinare prende in carico anche la famiglia. Questo perché il genitore deve essere accompagnato non solo nell'accettazione della diagnosi e quindi rispetto a qualsiasi difficoltà o dubbio possa avere nella gestione della quotidianità con il bambino sordo ma anche nell'ottica di individuare degli specifici obiettivi su cui lavorare che vengono trattati e individuati attraverso anche delle strategie che il genitore può mettere in atto a casa e a seguito a feedback avere la possibilità di interfacciarsi con l'equip per vedere dove poter agire ancora meglio. Grazie